Musica Salve a tutti spettatori e benvenuti in questo nuovo video tutorial Oggi siamo qui nella prima lezione di Javascript Finalmente siamo tornati a vedere un linguaggio di programmazione Non più un linguaggio di formattazione Cosa da dire prima di iniziare il video? Beh, innanzitutto forse questo sarà l'ultimo corso che faremo fino alla fine dell'anno È un bel po' di roba quella che vedremo in Javascript E non sarà neanche tutta L'anno prossimo la riprenderemo Cosa da dire è che per utilizzare Javascript Bisogna aver seguito anche le lezioni di HTML e CSS Che sono i linguaggi di formattazione per creare un sito web qualsiasi Che abbiamo visto poco fa Detto questo vediamo che cos'è Javascript E perché dobbiamo impararlo Javascript è un linguaggio di scripting Quindi non è un linguaggio ad oggetti come Java Che abbiamo imparato l'anno scorso Tra l'altro aggiungo fra parentesi Che se avete seguito tutto il corso Java Sarete sicuramente estremamente avvantaggiati Nell'imparare un linguaggio come Javascript Ma come alla fine tutti gli altri che vedremo Perché è chiaro che se sapete già programmare in un linguaggio come Java Bene o male imparerete come nulla tutti gli altri linguaggi Bene, parlando di Javascript per l'appunto È un linguaggio di scripting Quindi non creiamo delle classi, degli oggetti Per dar vita alla nostra applicazione Javascript per lo più serve come ho detto Per tante cose diverse Si possono fare veramente tanti algoritmi Con Javascript Ma cosa ne faremo noi di Javascript Per lo più lo utilizzeremo per le nostre pagine web Quindi vediamo proprio l'utilizzo principale Diciamo, quello per il quale viene più usato tendenzialmente Javascript è un linguaggio client Se parliamo di web application Che cosa significa che è un linguaggio client? Quando ho parlato di com'è un sito web e come funziona Vi ho suddiviso la questione client server Bene, quando abbiamo parlato di server Abbiamo visto, abbiamo nominato come linguaggio il PHP Ma anche Java, come C, eccetera Sono tutti linguaggi che lavoreranno al lato server E li vedremo l'anno prossimo Al lato client invece c'è Javascript Che fa tutta una serie di istruzioni Quindi anche se il nostro sito web si trova sul nostro remoto Quando noi andiamo ad aprire una pagina web Scarichiamo il template HTML e CSS Ok? E dentro questo HTML e CSS C'è anche il codice Javascript Che noi metteremo Quindi linguaggi HTML, CSS e Javascript Sono tutti linguaggi client Sono linguaggi che il nostro browser Prende dal sito web Li scarica Fa proprio un download A tutti gli effetti E quindi girano sul client Ok? Quindi quando noi andremo a programmare in Javascript Non dovete immaginarlo come il server che fa delle istruzioni Ma come delle istruzioni che vengono svolte sul lato client Ok? Ecco perché si preferisce appesantire di più il client che il server Perché il server chiaramente dovrà gestire tantissime cose Tantissime richieste Mentre il client solo quello che sta facendo ha da gestirsi Quindi ecco perché è fondamentale imparare Javascript La Javascript non è solo fondamentale per metterci in comunicazione con il nostro server Ma lo possiamo anche usare per rendere il nostro template HTML in maniera dinamica Cosa significa? Significa che quello che abbiamo visto fino ad ora noi è un sito statico Con delle immagini fisse Con dei pulsanti che magari non fanno nulla O comunque il massimo che funziona sono dei link che portano ad altri link O magari ad un'altra pagina Ma se noi ad esempio volessimo Che ne so Compilare un form e premere invio Oppure fare dei controlli O generare un pezzo di template automatico Eccetera eccetera Ecco questo lo possiamo fare tramite Javascript A vedere dei primi utilizzi di Javascript all'interno di una pagina HTML Eccoci qui sul nostro desktop E come vedete ho aperto una pagina HTML completamente vuota Non c'è assolutamente nulla qui dentro Ok? Quello che andremo a fare qui ora È innanzitutto aprire il tag script All'interno del tag script Noi possiamo inserire tutto il codice Javascript Che preferiamo Possiamo fare qualsiasi La prima cosa che vi vado a far vedere ad esempio È il console.log Che si scrive così E poi andiamo a scrivere ad esempio Ciao sono uno script Ok questa stringa che cosa fa? Va a stampare questa scritta nella console di Javascript Ossia nella console del nostro browser Lo andiamo a vedere subito Apriamo la nostra cartella che troviamo sempre qui come al solito E apriamo questa pagina JS esempio Quella che ho creato Facciamo ispeziona Troviamo qua console E come vedete troviamo la scritta Ciao sono uno script Questa è la console nel quale andremo a vedere Se il nostro codice Javascript Da dell'exception Quindi degli errori Per chi ha seguito Java dovrebbe sapere cosa sono Quindi tutti gli errori che vengono dati Oppure messaggi di output mandati tramite per l'appunto il console.log Li troviamo in questa schermata qua Per tutto il resto invece Andiamo a vedere appunto come Come far funzionare il nostro codice In pratica quando noi scarichiamo Carichiamo o meglio scarichiamo la nostra pagina HTML Lui si legge tutto il codice HTML Bu 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 Quando arriva qui si trova lo script ed esegue i codici che trova qui dentro Ad esempio io adesso qui ci metto l'istruzione di alert E dentro l'alert do un messaggio Ciao sono un pop up In effetti l'istruzione alert fa comparire un pop up del browser Se refresciamo Come vedete Come carica la pagina Ci esce Ciao sono un pop up Basta Clicchiamo ok E poi va avanti a caricare il resto della pagina Vi faccio notare infatti Se io qui mettessi probabilmente Un tag p E vado a refresciare la pagina Il tag p non compare Non compare finchè non premiamo ok Perché? Perché il pop up va a bloccare il caricamento della pagina Tutto quello che viene dopo viene caricato solo quando noi premiamo su ok Nel pop up Quindi ricordiamoci per l'appunto Che quando andiamo a mettere un pop up Tutta la pagina viene caricata successivamente A questo punto andiamo a vedere un pochettino la sintassi di base di javascript Ad esempio creiamo delle variabili e magari le stampiamo Un modo per stampare ad esempio qualcosa proprio sull'html può essere questo Adesso togliamo document Allora la parola chiave document Rappresenta l'intera pagina html Ok? Quindi ogni volta che noi andiamo a richiamare questo Stiamo dicendo questa pagina E' un po' come il dis di una classe Il dis di una classe rappresentava quella classe in java Bene Qua il document rappresenta la pagina html Se facciamo document.write Chi ha un minimo di intuito Intuirà che stiamo andando a scrivere un qualcosa Quando arriva qui ad eseguire lo script lui dice scrivi dove ti trovi Oh punto esclamativo Infatti lo va tranquillamente a scrivere come vedete qua Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a fare delle variabili Le variabili come funzionano in javascript? Semplicemente si utilizza la parola chiave var Un nome della variabile ad esempio x uguale Allora non esistono tipi specifici di variabili Quindi non esiste lo string, l'int eccetera Tutte quanti le variabili sono var Quindi per dichiarare una qualsiasi variabile in javascript si usa var Nome della variabile E poi in base a quello che noi gli passiamo alla variabile Lui capisce che cos'è Ad esempio x sarà un intero Se facciamo y ad esempio sarà un double Perché noi gli passiamo 5 Se noi adesso andiamo a fare una variabile str E gli passiamo una stringa Ciao sono una stringa Lui capirà che si tratta di una stringa Altre variabili che possiamo andare a fare Un booleano Bull Uguale false Ok Adesso ad esempio andiamo a stampare tutto quanto E vediamo se effettivamente funziona Quindi stampiamo la x Vediamo un po' che cosa esce Tutto quello si poi lo mette uno sotto l'altro giustamente Perché potremmo separare con dbr Comunque tutto quello che abbiamo scritto Adesso magari per l'appunto facciamo più E ci mettiamo il tag br di html Per mandare a capo Voi ricordatevi che comunque noi stiamo sempre scrivendo Su un template html Quindi la formattazione deve essere quella E questi diciamo che erano alla fine Tutti gli effetti degli esempi di variabili Per quanto riguarda invece scrivere dei commenti dentro java Scrivete sempre il doppio slash Oppure per i commenti a multilinea Come in java Sono esattamente uguali Scriviamo i commenti a multilinea Sono uguali a java Javascript ha una sintassi molto simile a java Però ad esempio ci sono delle differenze Come ad esempio le variabili Si scrivono in maniera diversa La prossima lezione andiamo avanti Sempre più nel dettaglio A vedere il linguaggio Questa era una semplice introduzione Per capire che cosa serve javascript Per cosa lo useremo eccetera Detto questo signori Noi ci vediamo nel prossimo video tutorial Vi invito a lasciare un like A condividere questo video In modo tale che possa essere l'ultima anche da altre persone Iscrivetevi per un nuovo video come questi Noi ci vediamo nel prossimo video Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti